Un drone statunitense ha ucciso una trentina di presunti membri di Al-Qaeda nel sud dello Yemen. L'attacco, che ha preso di mira un campo di addestramento nella provincia di Abiana, è il secondo nell'arco di due giorni. Sabato, nella regione centrale di Baida, un altro drone aveva ucciso dieci presunti militanti del network terroristico.